Allora in questo tutorial ti faccio vedere come inviare i broadcast usando i tag che è la novità inserita rispetto al videocorso che ho registrato, vai in broadcast, ci sono già, e crei un nuovo broadcast, puoi decidere di inviare un messaggio su messenger o una mail, partiamo da messenger perché è quello che ha tra virgolette i maggiori problemi nel senso che dobbiamo dire a facebook che non stiamo mandando un messaggio promozionale, questo è il punto di partenza e il primo messaggio come vedi qua su in alto ha il content type, io ti consiglio di mettere o la conferma di un evento cioè di qualche cosa legata alla tua attività o un aggiornamento sull'account del cliente, non so ad esempio un aggiornamento sull'account del cliente potrebbe essere anche una cosa di questo genere so che sei alla 38esima settimana di gravidanza e quindi ti racconto questa storia qua oppure un evento potrebbe essere guarda collegati per la mia live oppure guarda c'è un evento speciale che è lo sconto del 30% sui miei prodotti e così via, facciamo un esempio di questo genere ovviamente c'è anche post purchase update che è ad esempio una persona che ha confermato da te non so un servizio tipo un matrimonio potrebbe ricevere in successione delle post purchase updates quindi degli aggiornamenti sul post vendita supponiamo di fare un confirm event update e tu non fai altro che scrivere il tuo messaggio e inviarlo ti faccio vedere giusto una cosa in più qui scrivi il tuo messaggio, aggiungi tutto quello che vuoi se dovessi mettere un nuovo step che cosa succede? succede che se il nuovo step è un messaggio anche qua devi fare la stessa cosa cioè devi inserire un content type perché se vai avanti lui si arrabbierà fa vedere se riesco a fartelo vedere se c'è il verify dunque facciamo che mettiamo qui un messaggio live per domani ore 16 non metti ecco vedi si è già arrabbiato per favore seleziona una dei tag e adesso lui funziona poi metti non promotional or mixed content e qua definisci la tua audience andandola a targettizzare non so maschio o femmina per 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 ad esempio qual è il canale di comunicazione preferito quali sono i contenuti di interesse insomma in base a come tu hai fatto profilare le persone ad esempio non so adesso io voglio taggare le persone che hanno vogliono partecipare alla live sul pixel ok in questo modo qua qua su in alto vedi che sono diventati 67 gli users mentre prima erano 441 e poi puoi schedulare l'invio o inviare subito schedulare semplicemente ti permette di scegliere non so che invii domani alle 2 del mattino o alle 14 di pomeriggio ok e questo è il mini tutorial per inviare nella maniera corretta un messaggio su messenger a tutti